Costa Smeralda La Vespa è una nave italiana ed è per questo che ha deciso di rendere omaggio a questi designer italiani. Venite! La Vespa è nata a Ponte d'Era vicino alla nostra sede Samovar. Guardate qua che spettacolo! Il Frecciarossa 1000, le Ferrari, le modellini di Costa Crociere. La Vespa è nata a Ponte d'Era vicino alla nostra sede Samovar. La Vespa è nata a Ponte d'Era vicino alla nostra sede Samovar. Spero vi sia piaciuto, vi aspetto a bordo di Costa Smeralda. Ciao! Grazie! 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 Grazie!